Quindi, primo possesso in questo big match tra Scafati e Venezia di Giulio Maria va contro Baldassarre, va a realizzare i primi due punti. Clark dall'altra parte, da doppio su di lui, di Giulio Maria fa saltare Hunter, va a segno suo quarto punto. Ah, tre minuti esatti e un appolge il palamangano di Giulio Maria, mette la tripla del pareggio, 69 pari.